La provincia di Taranto interpella il prefetto per l'attivazione dei voli passeggeri di linea dallo scalo dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie. L'ente di via Anfiteatro, in una nota scritta, si rivolge al prefetto Cafagna affinché nei suoi poteri sostitutivi riconosciuti dalla legge istituisca un tavolo interistituzionale partecipato tra provincia di Taranto, Ministero dei Trasporti, l'ENAC, la Società Aeroporti di Puglia S.P.A., la Regione Puglia e il Comune Pro Aeroporto. Il duplice scopo è quello di attivare i voli passeggeri dell'aeroporto grottagliese per un bacino di utenza che coinvolge Puglia, Basilicata e Nord Calabria e dare seguito alla procedura di revoca della gestione da parte di aeroporti di Puglia dello scalo ionico. In caso di continua inadempienza da parte di Regione Puglia e di aeroporti di Puglia abbiamo invocato presso il prefetto l'azione sostitutiva ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione che quindi porterà poi il Governo nazionale a esprimersi su questa vicenda e a fare una scelta chiara e definita per l'aeroporto di Grottaglie. Sono passati molti mesi dalla delibera di indirizzo della Giunta regionale in cui si prospettava l'emanazione del bando per la selezione degli operatori ma anche poi tutti gli adempimenti conseguenziali che ad oggi non ci sono stati quindi davvero teniamo il fiato sul collo perché l'aeroporto non solo può coesistere con gli altri aeroporti di Puglia e può essere una marcia in più per servire il bacino non solo di terra ionica ma anche della Basilicata e della Calabria superiore ma anche un elemento forte di sviluppo alternativo di questa terra. Sulla stessa lunghezza d'onda anche il consigliere provinciale di opposizione Ciro Petraruro. C'è una notizia in più da dare che di fatto il piano aziendale ENAV prevede un investimento di 650 milioni di euro con la creazione di torri remote quindi non ci sarà più la torre di controllo col personale all'interno ma ci saranno delle videocamere e comunque delle infrastrutture informatiche ed elettroniche che permetteranno il controllo del traffico di grottaglie da altre location. Questa location è stata individuata con Brindisi dove il Crab dovrebbe trasferirsi, ahimè perché ci lavoro, a Roma e quindi ci sarebbe il centro con 11 torri remote. Le torri remote saranno Grottaglia, Crotone, Lamezia, Reggio, Brindisi, Pescara, Ancona e Napoli. Saranno gestite tutte da questo centro di controllo di torri remote quindi non essendoci più la torre con il personale si abbatteranno notevolmente i costi gestionali dell'aeroporto stesso. Non si può non dire che attualmente far decollare e atterrare un'aeromobile a Grottaglia avrebbe dei costi notevoli. Beh con questo abbattimento noi potremmo mettere in condizione ulteriormente la regione quindi Emiliano e quindi Addipuglia per avere una ragione in più per aprire l'aeroporto di Grottaglia e Taranto.